Ciao bimbi e benvenuti in un nuovo capitolo della nerd cultura! Da quando ho iniziato a fare video su questo canale non ho mai nascosto il mio amore per la stop motion, anche detta passo 1, e sinceramente trovo che sia la tecnica d'animazione più affascinante di tutte. Grazie per la visione! Grazie per la visione!